Secondo me si cerca non tanto l'idea per fare un film, si cerca una valvola di sfogo o qualche cosa che possa veicolare quello che è un sentimento interno, un messaggio interiore. E si trova attraverso la musia per esempio, quel veicolo che ti permette di comunicare un messaggio, nel mio caso uno stato d'animo, infatti dicevo che la musia, che è il nome del film, è il nome di una malattia, una malattia esistente molto rara che impedisce a chi ne soffre di sentire la musica. Quindi tecnicamente il film parla di questo, però la musia è anche allo stesso tempo un pretesto per raccontare quello che è uno stato d'animo molto più diffuso che è quello del sentirsi inadeguati o incompresi o fuori posto o avere difficoltà a comunicare. E quindi, e questo diciamo l'interesse mio era oltre che musicale anche nel cercare di comunicare uno stato d'animo che mi approprio. E quindi l'idea di fare questo genere di film nasce da questa volontà qua, non da una volontà di dire voglio fare il regista e questa è una buona scusa per fare un film. All'interno di questa parola c'è una ragione che mi appropria, che sento mia e che quindi penso di poter raccontare attraverso le immagini. Io sono una persona che spesso ha difficoltà a comunicare nella vita quotidiana, nei rapporti quotidiani e spesso trovo nell'immagine o nella parola scritta un mezzo di comunicazione che mi permette di essere capito meglio. Quindi, però ecco insomma appunto questa è la mia opera prima ed è oltre che la storia di un film che vedrete, che spero vi piacerà, è anche un pochino la storia di un foglio bianco. C'è un foglio bianco che io incontro nel 2019, nell'inverno del 2019, di nuovo per bisogno di espellere tutta una serie di emozioni che dovevo espellere, che dovevo buttare fuori, che non riuscivo a comunicare e quindi l'ho comunicata e ha un foglio bianco, che può essere una cosa rassicurante e spaventosa allo stesso tempo. Nel caso mio è stato per fortuna rassicurante perché questo foglio bianco poi ha colto più parole, più ragionamenti e finalmente riuscita a diventare una sceneggiatura, però appunto a me piace pensarlo come il viaggio mio e di questo foglio che durante il percorso ha conosciuto un sacco di persone che li hanno voluto bene, che l'hanno migliorato e che l'hanno aiutato ad arrivare dove voleva arrivare, no? che è in questo caso stasera qua dentro, al cinema, perché il regista o chi vuole fare regia vuole arrivare in sala, nella sala cinematografica, il traguardo è quello lì, quindi a me mi chiedono ma com'è che tu è un mese che stai girando per tutta Italia a presentare il film, te fai nove ore di treno qua, nove ore di treno di là, perché è come se fosse l'ultimo miglio, cioè io mi sto godendo quest'ultimo miglio di una maratona, la mia prima, che è stata intensissima e bellissima, e quindi mi sto godendo, ogni sera mi sto godendo quello che poi arriverà e tagli il traguardo, sono pronto a tagliare il traguardo, però c'è già nostalgia di un procedimento che è la bellezza di fare un film, che non sta nel, la bellezza è nella fatica, nella fatica che si fa nel dargli vita, nel procedimento, nel processo, è bello di fare il film, ed è talmente bello che appunto rende ancora più dolce questa specie di cavalcata, tra virgolette, finale, e quindi ecco a me mi fa specie pensare quanta strada abbiamo fatto, io e questo foglio bianco, cioè le persone che ho incontrato, che siete voi, e che ho incontrato tantissime altre persone, e ognuno di voi, ognuno di queste persone, ha contribuito ad arricchirlo un po' di più, a imprimere ancora più a fondo l'inchiostro nella carta. Quindi diciamo che io sto parlando così a braccio, dico quello che mi viene in mente, ma il motivo per cui credo di voler fare film, o il momento, la ragione per cui ho deciso di fare film, è un giorno da giovane vidi la strada di Fellini, e pensai che fosse bellissimo come ci fosse un qualche cosa che potesse distrarmi, in quel caso, per un paio d'ore, no? Una specie di ascensore che ti porta al cielo e ti fa stare sospeso per un paio d'ore e poi ti riporta giù. E io ho un po' quella concezione del cinema, sono per, come dicevamo anche a tavola prima, sono per un cinema impegnato, ma sono anche per un cinema che ti permette un attimo di sollevarti, di andare da qualche altra parte, di fare un piccolo viaggio. Questo film qua appunto è il racconto di un piccolo viaggio, di un viaggio che più che fatto, è un viaggio immaginato, in queste ambientazioni dove questo film si svolge, che sono ambientazioni che vogliono suggerire al sogno, che vogliono suggerire un po' al surreale, al metafisico, all'onirico, perché appunto è poi di base, è una storia d'amore, è l'inizio di una storia d'amore tra due ragazzi, ed è un po' come se in questo caso i sentimenti influenzassero le ambientazioni. È un film che non ha una collocazione temporale precisa, non ha una collocazione territoriale precisa. è un film che volutamente sparpaglia dei punti interrogativi, perché è un film che vuole lasciare spazio di interpretazione a chi lo guarda. Di nuovo, ritornando al discorso che facevamo prima, io credo, magari mi sbaglio, che il cinema vada molto incontro oggi allo spettatore, e che il punto interrogativo sia quasi tabù, bisogna spiegare tutto. Ecco, secondo me questo io l'ho sempre visto un po' come sottovalutare lo spettatore, non pensare che lo spettatore sia in grado di dare una sua lettura. Io nel mio piccolo ho cercato invece di fare un film che desse, non so se ampio spazio, forse ampio o non, però spazio all'interpretazione. Il perché poi, credo che lo capirete guardando, ma proprio perché l'interpretazione porta poi a costruire al proprio interno un microfilm, no? Perché ci si immagina un finale aperto permette allo spettatore di immaginarsi il proprio finale. Giusto o no? E quello è farsi un microfilm. essenzialmente poi sono per il cinema impegnato, ma non mi sento un regista impegnato, mi sento una persona che ha l'immaginazione, che si è sempre immaginata un sacco di cose. E partendo poi, veramente, la musica, poi la miccia, che, per esempio, a me mi fa... In verità, la prima forma che io mi sento che è successa a me, che mi ricordo di cinema, era che mio padre era solito, quando andavamo a letto, raccontarci, ci raccontava le storie dei suoi viaggi. Ci metteva in camera, io e mio fratello spengeva la luce, noi ci mettevamo a letto e lui per farci addormentare ci raccontava le storie dei suoi viaggi. E quindi quella era la prima forma di cinema che io mi ricordo era quella là, perché tu sei steso nel letto al buio, c'hai una voce che ti racconta qualche cosa e ti immagini quello che ti stai raccontando. Però poi, oltre a quello, è stata la musica, l'altro veicolo che mi ha aiutato a... e che mi aiuta tuttora a immaginare. Cioè la musica che mi suggerisce scene, che mi suggerisce colori, che mi suggerisce luci ed emozioni. Quindi la musica è una grande miccia per quello che per adesso è il modo in cui io faccio cinema. E quindi la musica appunto rientra, ritorna dentro me in forma diversa con la musia, che a questo punto direi che posso farvi vedere, ho parlato abbastanza. Volevo concludere dicendo alcune suggestioni ma velocissime e sono il piacere, se tu ci dai il permesso, di mettere questo tuo racconto sul nostro sito domani in modo che si possa capire lo spirito, l'anima di chi come te si è avvicinato al cinema. Ecco quindi. E far capire proprio la sensibilità che tu hai avuto e diciamo la passione in questo momento di raccontare a due nuovi amici queste tue emozioni che sono emozioni private. Ecco quindi c'è... Il bello di questa serata è che molto probabilmente noi siamo diciamo sul palco in quattro ma spero che questa tua voce, questa tua passione attraverso diciamo il sito riesca a catturare l'attenzione di tante altre persone per poter fare a Musia 2 la vendetta adesso scherzo ecco quindi nel senso di far ritornare o te o questo film anche attraverso il nostro passaparola sì 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 ma adesso poi vi lascio a voi diciamo di dire qualcosa perché ritengo che questa tua passione non possa essere contenuta e quindi avrà diciamo tante persone che riceveranno questa tua onda d'urto che è anacronistica in questo momento in cui ci sono semplicemente grosse sostanzialmente egoismi e vedo che siamo circondati da infiniti egoismi che non mettono diciamo come primo motivo quello che è lo star bene insieme ecco quindi c'è tanta difficoltà quindi tutto questo credo che sia una medicina essenziale allora io ho finito dico grazie volevo aggiungere che è bello quando un film raro debba contare sul passaparola più che sulla pubblicità se il film è piaciuto allora ecco se ne parla e quindi poi vengono attratti altri spettatori che giungono al cinema a vedere il film con compassione per il suggerimento di chi di chi lo ha ammirato il film e quindi c'è chi va al cinema non perché è stato indotto dalla pubblicità ma comunque il trailer è bellissimo il trailer di questo film però è chiaro che la diffusione del trailer poi è un campo a parte ecco e e quindi ecco cioè andare al cinema non perché si è stati indotti dalla pubblicità ma perché si segue il consiglio di chi già l'ha visto è una curiosità dopo la fatica di cui parlavi di riempire questo foglio bianco insomma quanto è stato faticoso invece arrivare poi alle riprese quindi trovare dei produttori allestire il set insomma fare un casting ma senti è stato è stato faticoso perché fare un film è faticoso è faticoso c'è un sacco di lavoro tantissimo lavoro da metterci e tanto tempo da sacrificare da sacrificare verso il film e a discapito di tante altre cose diciamo che noi abbiamo fatto una cosa piuttosto folle una cosa che ci ha fatto commettere un sacco di errori e che quindi conseguentemente ci ha fatto imparare un sacco di cose ovvero autoprodurci il film noi abbiamo partecipato al bando opera prima e seconda del MIC e ci è andata bene perché siamo arrivati i primi e abbiamo ottenuto un finanziamento consistente che ci ha permesso poi come spesso accade di sbloccare altri finanziamenti tipo quelli dell'Emilia Romagna Film Commission della Lazio Film Commission a quel punto è subentrata a Rai Cinema e noi ci siamo ritrovati ad avere il budget che pensavamo fosse necessario per già il film che era poco sotto al milione era 890 mila euro se non sbaglio e quindi ci siamo detti ma perché non provare a produrcelo questo film e questo ha generato una molla di lavoro enorme in più però ha avuto un un vantaggio secondo me veramente veramente importante quello che non avevamo sopra di noi un tetto il tetto è è quella è quella cosa che ti dice non è possibile lascia stare non è una buona idea costa troppo non avere il tetto e quindi si può anche si può chiamare un po' di sana follia non avere il tetto è ciò che ci ha permesso di lavorare con Luca Bigazzi lavorare con Fanny Erdan costruire scenografie in generale realizzare un film che non so se sarebbe stato così se sarebbe stato così con un produttore con un tetto con un tetto io non so perché ci avrebbero detto ragazzi lasciate stare Fanny Erdan ragazzi Luca Bigazzi puntiamo più in basso vogliamo più in basso le scenografie ci sono gli schermi verdi tutta una serie di cose che noi per nostra ignoranza che in questo caso è una grandissima un grandissimo vantaggio la nostra ignoranza in materia ci ha permesso di credere di volare di credere che non c'era non c'era gli unici ostacoli erano quelli che ci davamo noi stessi e quindi poi tutto quello è ci sono mille problemi è un percorso pieno di ostacoli noi abbiamo risparmiato credo 30.000 euro dai direi perché se no ve lo racconto io a voce ma è peggio non c'era ma è un po' Grazie a tutti